Ciao a tutti, benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come completare l'ultima sfida di Aquaman per lo sblocco dello stile alternativo. Tutto quello che dovete fare è indossare la skin di Aquaman e tuffarvi da qua. Forra Favolosa, un'ambientazione che sicuramente conoscete, una località molto famosa se provenite ovviamente dalle precedenti stagioni. Forra Favolosa si trova tra l'autorità e l'acolanguido e se vogliamo dirlo anche fattoria frenetica. Quindi al centro si può dire di questo triangolo, più o meno, c'è Forra Favolosa che è questa cascata. Dovete prima di tutto ovviamente sbloccare la skin di Aquaman completando le varie sfide, quindi una sfida per settimana, 5 sfide. Una volta che avete sbloccato la skin di Aquaman selezionatela e buttatevi da qua. Quindi raggiungete Forra Favolosa e fatevi un bel tuffetto come potete vedere e sbloccherete lo stile alternativo di Aquaman.